Sono convinto, l'esperienza e l'esperienza di alta qualità immagino che sia proprio uno degli elementi che può aprire tutta una serie di strade, anche, diciamo così, non necessariamente nel turismo di lusso. Lei cosa ne dice, dottor Caire? E' questo il ruolo che anche voi potete svolgere? Posso ringraziare l'ambasciatore Morabito, ha fatto veramente un grandissimo lavoro. Grazie. Ho avuto la fortuna di parlarne qualche volta con lui, ma lo vedo realizzato e veramente complimenti. Grazie. Ma in 2014 siamo in un momento straordinario. Il Ministero dei beni culturali, delle attività culturali, ha avuto un'aggiunta. Il turismo. Ma è la prima volta, facciamo sul serio, non succede da tanti, tanti anni. E abbiamo il portafoglio. Vi ricordate che quando dicevamo, ma sì, esiste il Ministero del Turismo, ma è senza portafoglio, quindi non potrà fare nulla. Bene, adesso ha anche il portafoglio, quindi abbiamo tante grandi speranze. Qualche anno fa ho incontrato Renzi, un paio di anni fa, mi ricordo, gli dissi, ma senta, ma se lei un giorno diventasse il Ministro del Turismo, cosa farebbe? E lui mi ha detto, ma guardi, se diventassi Ministro del Turismo sarei il primo ministro. Bravo, politicamente. Però, siamo pieni di speranze. Ho visto Calenda qualche giorno fa, in un'altra occasione di presentazione di un report molto interessante, e ha detto, l'Italia è un brand di destinazione. Piace molto questa definizione, che è estremamente sintetica. Ma, di fatto, l'anno scorso avevamo 22 milioni di euro disponibili per la promozione internazionale, quest'anno ne abbiamo 60. Va bene, la Spagna ne ha 130, però abbiamo già fatto un bel passo avanti. Motori, cibo, arte, cultura, shopping, no? Ma, soprattutto, l'aspettativa dei turisti è diversa, questo è importante ricordarcelo, in funzione del paese di loro provenienza. Ogni turista, nell'alta gamma, di alto profilo, arriva in Italia a un'aspettativa, che deriva anche dalla propria cultura. E quindi è estremamente importante che sia studiata questa esperienza italiana, che sia adattata, declinata, in funzione della tradizione, della cultura dell'ospite. Quindi bisogna prepararsi, studiare. E dico questo perché, purtroppo, visto che il trend di sviluppo è positivo su questo segmento, molti si stanno improvvisando. Da un certo punto di vista, bene, molti se ne stanno occupando, ma, purtroppo, molti si stanno improvvisando. Bene, Prima Classe Italia ha anche un po' il ruolo di cercare di far man mano aggregare effettivamente chi si occupa di questo in modo professionale. Un'ottima notizia è quindi quella che l'export di prodotti made in Italy stia crescendo. Magnifico. Però uno dei vantaggi fondamentali dell'Italia è che lei stessa non sia esportabile. Cioè, i suoi prodotti sono esportabili. Magnifico. Ma per vivere quest'Italia straordinaria è necessario venire fisicamente in Italia. Provate ad andare a Las Vegas, molti di voi, immagino, ci saranno stati. C'è anche una riproduzione di Venezia, molto bella, a parte il fondo dei canali azzurro chiaro, che, come sappiamo, è un po' diverso. Va bene. Però non è paragonabile, in effetti, alla Venezia. Quindi vero contro falso. Il vero lo abbiamo e lo avremo in futuro solo noi. È un punto fondamentale. Questo è un approccio che, applicato man mano a tutti i segmenti del turismo, oltre anche quello del segmento alto, di alto profilo, in effetti supera la crisi locale, supera le difficoltà logistiche, supera lo smacco dell'acquisto delle aziende italiane da parte di gruppi stranieri. Però attrae capitali, valorizza i nostri asset, crea posti di lavoro, mi spingo oltre, fa rifiorire l'orgoglio italiano, che per ritrovarlo, credo, tutti noi dobbiamo risalire almeno alla generazione precedente. Purtroppo. Quindi io considero personalmente questa Italia il paese talento dell'Europa, non un'Italia per l'Italia. Naturalmente parlo del turismo. Credo anche che noi italiani dovremmo iniziare a pensare all'Europa come un aggregato di eccellenze. Ogni paese con la propria. Noi abbiamo la bellezza, quella grande. Grazie a Sorrentino anche. Bene, però la promozione Made in Italy, inteso come lifestyle del segmento più alto, è cruciale, ha bisogno di supporto, di fondi, di consenso, di sistema. Perché solo una filiera integrata, affidabile, attrae i turisti di alto profilo, incrementa la vendita anche dei prodotti del segmento più alto, e genera posti di lavoro, eccetera. Ma alla fine, insomma, la domanda è caratterizzata, la domanda di questo segmento, da persone che non hanno un bisogno. L'assenza del bisogno delle persone che cercano l'esperienza italiana di altissimo profilo, dove la terza domanda è quanto costa, non è la prima, è una domanda internazionale che chiede a questo paese, tra virgolette, solo di organizzarsi, di valorizzare quello che è già disponibile, di puntare su se stesso, facendo in modo che ciò che promettiamo soddisfi la promessa italiana. Tutto qua, teoricamente, sembra semplice, ma non dobbiamo creare o inventarci chissà quale formula, abbiamo già tutto. Questo vale a tutti i livelli, in tutte le realtà, ma io non sono mai stato a palo alto, al 2066 di Christ Drive. C'è una casetta che è diventata una dimora storica e su tutte le guide di Los Altos, nella contea di Santa Clara, arrivano centinaia di persone continuamente e il garage di Steve Jobs, ovviamente visitabile, sempre disponibile, e che dire, bravi. Pensate però alle nostre capacità, al nostro potenziale. Io mi occupo da molti anni del segmento, dell'alto profilo esperienziale italiano, oggi con Prima Classe Italia, che è l'Associazione Nazionale di Categoria delle Dimore e dell'Alta Qualità Esperienziale Italiana di Federturismo Confindustria. Abbiamo quindi una via di aggregazione molto importante che ha già raccolto soci tra associazioni, chef, sommelier, concierge, proprietari di dimore, eccetera, eccetera. Posso dire ancora due cose velocissime? 30 secondi. Perfetto, allora più veloce. Salto una parte, chiedo scusa. L'Italia è l'unico luogo al mondo che abbia la densità di informazioni, di storia, di arti, di culture e traduzioni necessaria finché questa esperienza sia veramente non riproducibile, per cui è assolutamente distintiva. quindi, a mio avviso, uno dei temi importanti sono tecnologie, uno dei tre, diciamo i tre temi più importanti sono tecnologie e digitalizzazione. Digitalizziamo, internettiamo la nostra bellezza e rendiamola più fruibile, più facile. Marketing con i nostri testimonial naturali, Volta, Marconi, Leonardo, ci bastano questi, quindi marketing in livello internazionale. supporto tecnico al ministero dei beni culturali e del turismo, cioè utilizzo degli imprenditori, dei professionisti a supporto operativo e considerate, insomma, che alla fine siamo di fronte a un enorme deposito di bellezze, il più grande del mondo, ma alla fine è come se mescolassimo una serie di ottimi ingredienti senza una ricetta vera e propria. infatti il risultato complessivo non è all'altezza del suo potenziale. Concludo, concludo, e vorrei chiedervi un piccolissimo contributo. Immaginate un'Italia perfettamente conservata, servizi e trasporti efficienti, puliti, puntuali, persone preparate e motivate ad accogliere i turisti. Immaginate la bellezza italiana come una risorsa europea, al servizio del mondo intero. Unesco ha già deciso che è così, con tutti i siti. Immaginate un'Italia irraggiungibile da qualunque altra nazione al mondo per stile di vita, benessere e qualità della vita. Immaginate di essere, di sentirvi profondamente italiani. Immaginato? Bene. Ora raccogliete tutti i motivi che vi sono venuti in mente relativi al perché in realtà non è così. Escriveteli a italiani chiocciolaprimaclasseitalia.it In questo modo ci darete un contributo per lavorare nella direzione giusta. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie.